Come è noto, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara è attualmente sistemato in un edificio che non assicura la massima funzionalità e fruibilità degli uffici che da almeno 24 anni attendono di essere trasferiti in una sede idonea. La proposta di un nuovo Comando Provinciale risale al 2002, anno in cui venne individuata un'area in cui insediare la struttura. L'Onorevole D'Alfonso ha presentato una interrogazione a risposta scritta al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Difesa, dell'Interno, delle Infrastrutture, dei Trasporti, dell'Economia e delle Finanze. Con questo atto di sindacato collettivo ha chiesto di sapere se e quali iniziative intendano assumere il Presidente e i Ministri interrogati affinché si sviluppi un'azione di coordinamento e di supporto reciproco tra gli enti interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza per il reperimento dei fondi e per consentire nel più breve tempo possibile l'apertura appunto della nuova sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pescara in fase di costruzione in via Rigopiano. Ho presentato in interrogazione al Parlamento la numero 383 del 19 novembre, richiamando ciascuno alla propria capacità di collaborazione. Sono 21 anni per la sede degli alloggi e il Comune di Pescara, da Meretto allora, acquistò il terreno degli ex monopoli e lo donò, possessivamente, gratuitamente. Adesso però serve comporre il salvadanaio per fare in modo che si completi la progettazione e si attivi la procedura di scelta del contraente per fare il Comando Provinciale dei Carabinieri. Adesso io spero che in 36 mesi, se tutti fanno la propria parte, si costituisca prima il fondo occorrente, mettendo insieme le risorse di Agenzia del Demanio dello Stato e Provveditorato Interregionale Ministero delle Infrastrutture. Poi si stabilisca chi appalta, chi fa la direzione dei lavori, tenendo conto che il Demanio dello Stato prenderà la proprietà del bene rinveniente e i Carabinieri finalmente potranno avere una sede degna di questo nome, perché oggi sono accampati in un letto a castello. I Carabinieri hanno una zattera nella quale oggi sono situati. Sto spintonando il Ministero competente e mi appello anche alla concretezza di Salvini e del suo capo di gabinetto in maniera tale che si capisca che questa è una priorità. Non stiamo situando i compagni delle Vergini di Santa Rosalia, stiamo situando coloro i quali assicurano l'ordine e la sicurezza percepita. E poi alla domanda c'è un allarme e sicurezza o no a Pescara? D'Alfonso risponde c'è un problema di cui farci carico tutti insieme ma... La soluzione non è mettere l'esercito lungo le strade, quella è emotività.